Buongiorno a tutti e buongiorno Francesco, spiegaci un attimo da start up alla borsa come siete arrivati a questo risultato? Un percorso veramente avvincente, Clean B&B è nata poco più di tre anni fa da un'idea geniale probabilmente che era quella di portare servizi per gli affitti brevi ai proprietari che non hanno tempo di gestire il proprio immobile, sono stati tre anni veramente entusiasmanti, diversi aumenti di capitale, due campagne di crowdfunding, credo che l'arrivo in borsa italiana sia la naturale evoluzione di un percorso come il nostro. E come pensate di investire le risorse che raccoglierete con il collocamento? Sicuramente per la crescita, noi siamo riusciti in pochi anni e con poche risorse a diventare il più diffuso operatore italiano di questo settore, adesso vogliamo accelerare, vogliamo raddoppiare il numero di località gestite direttamente dal nostro personale, oggi sono più di 40, ne vogliamo di più, vogliamo cominciare a lavorare all'estero partendo da quelle località che sono più simili alle città italiane, per questo serve del denaro, per partire velocemente serve naturalmente una spinta che vada sia sulla parte di sviluppo, sul marketing, sulla comunicazione, ma anche sulle risorse, sulle persone che sono alla base del nostro lavoro. E quali sono esattamente le tempistiche del collocamento? Beh, il book degli ordini è già aperto da qualche settimana, il 15 di luglio è l'ultimo giorno per partecipare alla nostra iniziativa. Quindi, per concludere, una domanda un po' bruciatelo, perché investire su di voi? Beh, Clean B&B è piaciuta sempre tanto perché è a portata di tutti, tutti capiscono quello che facciamo, tutti capiscono il bisogno che c'è di un servizio come il nostro, tutti quanti siamo stati ospiti di un appartamento in affitto breve, oppure un nostro appartamento è in questo momento a reddito con questo tipo di soluzione. Beh, noi abbiamo avuto tantissimo successo, soprattutto perché quello che facciamo è comprensibile, il mercato su cui noi lavoriamo è immenso, bisognava creare uno strumento rapido, veloce per scalarlo. Ecco, questa è Clean B&B. Perfetto, grazie mille. Grazie.